e ancora una volta ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video di minecraft ciao ragazzi e bentornati nell'episodio 5 della pandora craft perché pandore così con i colori accesi ora si spiega come si aumenta l'aspettato bisogna aumentare il gamma colori ancora una volta ciao sistemati colori ragazzi adesso dovreste vederli bene ciccio che cosa stai facendo qua ciccio oggi ho fatto uno spacchettamento di clash royale io ho pubblicato la fail craft fallito come te ciccio ancora una volta ti sbatto la testa nel marciapiede se ripeti queste cose alex diglielo i denuncio picchialo alex picchialo picchia ciccio picchia ciccio io me ne faccio episodio di te perché io sono il capo branco dei miei baguri si si io di tutti i miei leoni non mi toccare che io è che ti rilugio è la quale è là che tanto la io mi difende surri che guardi surri surri al power finca se vuoi ok non doveva finire così chiamate luke grazie grazie